Ciao a tutti, mi chiamo Marcato Francesco, detto che è coindio del presidio Padova-Arcella. Volevo solo passare l'informazione della sfilata che si farà domani, questo movimento silenzioso contro i sigili di Stato, che partirà dal presidio di Padova-Arcella alle 14.30, per cominciare questa manifestazione dalla stazione e andare in centro di Padova. Aspettiamo tutti i numerosi, perché questa non è politica, è una manifestazione contro i suicidi di Stato, è un dovere esserci, spero che tutti domani alle 14.30 si facciano trovare qui a Padova-Arcella, in Piazza Azzurri d'Italia, oppure in stazione alle 15.30. Dove si proseguirà dopo? Si partirà dalla stazione per andare nelle piazze Garibaldi e poi muoversi per le piazze di Padova per andare in prefettura, davanti alla prefettura, dove là si depositeranno delle croci e ognuno sarà libero anche di dire la sua o parlare in quel caso del problema che si sta vivendo tutti i giorni. Ricordiamoci che sono quanti i suicidi? 140 suicidi. 140 oggi dall'inizio dell'anno. È un dovere partecipare.